Dopo l'esordio vincente contro la Francia, l'Italia di Spalletti affronta Israele a Budapest. Prima mezz'ora di studio, poi al 38esimo. Gli azzurri si affacciano in avanti. Frattesi la gira per Raspadori, di tacco al volo per Ken. Controllo con il petto del centroavanti, difende palla e scarica ancora per Raspadori. Vede Di Marco libero sulla sinistra, parte il cross col mancino di prima intenzione. Arriva Frattesi che mette in porta l'1-0 con il petto in posizione regolare. Secondo gol consecutivo dopo quello di venerdì contro la Francia. Italia in vantaggio a 8 dall'intervallo. Un minuto più tardi ancora Azzurri all'attacco. Di Marco vede Raspadori in profondità, il controllo in area di rigore affronta la difesa avversaria e punta la porta. Rientra sul destro, cerca lo spazio per la conclusione. Gerafi para in due tempi dopo la deviazione di Nachmias. Ripresa che inizia con l'Italia avanti. Azione che parte da Bastoni, lo scambio con Di Marco. Si chiude il triangolo con Bastoni che avanza. Porta palla fino al limite dell'area di rigore. L'imbucata per Frattesi. Controllo col destro e sinistro. Nello specchio. Attento Gerafi a chiudere la porta. Prova a rispondere Israele. Solomon punta di Marco dalla destra. Doppio passo e scarico al limite. Il tiro di Perez è strozzato ma diventa un assist per Jeskel. Donna Rumma costretto a deviare in calcio d'angolo. Minuto 62. Italia in pressing. Frattesi ruba palla sulla tre quarti e si invola verso l'area avversaria. Serve Raspadori. Rientra e calcia. La respinta del portiere sulla ribattuta. Arriva Ken che firma il 2-0. Torna al gol in azzurro dopo tre anni Moise Ken. E la squadra di Spalletti allunga su Israele a meno di mezz'ora dal termine. Israele non molla. Ultimo minuto regolamentare. Punizione dalla destra. Spiovente in area di Safuri. La difesa azzurra non riesce ad allontanare. Il pallone finisce sul destro di Abufani che supera Donna Rumma. Accorcia le distanze Israele al novantesimo. Ma non c'è più tempo. L'Italia di Spalletti vince la seconda partita consecutiva in Nations League. e sale da sola in testa al girone a punteggio pieno. Prossimo appuntamento il 10 ottobre a Roma contro il Belgio.